Vittoria è scioltezza per l'Arezzo Calcio Femminile, che davanti al proprio pubblico infligge un sonoro 4-0 a Livorno e sale a quota 32 in classifica, mantenendo invariato il distacco dalle prime della classe. Mister Acquisti manda in campo dal primo minuto Antonelli tra i pali, Zeghini, Atterini e Teci in difesa, Renzoni, Lucarini, Baracchi, Chiodi e Serluca a centrocampo, Torrioli e Paganini in attacco. Il match è un monologo delle Amaranto, che sin dai primi minuti dimostrano la propria superiorità, chiodendo il Livorno nella propria metà campo. La prima palla-gol è griffata Paganini, che stoppa di destro e tira di sinistro, mandando la sfera di un soffio sopra la traversa. Al quarto d'ora il gol che sblocca il match, punizione di Zeghini dai 30 metri, palla sotto l'incrocio per l'1-0 in favore dell'Arezzo. Nella ripresa il copione non cambia, le Amaranto dilagano. Al terzo capità Lucarini, firma il raddoppio con un tiro dal limite dell'aria, mentre all'ottavo è Atterini di testa a siglare il 3-0. Il poker Amaranto giunge al 35esimo con Mattiacci, che chiude in gol un ottimo scambio tra Paganini e Mazzini. Da segnalare il debutto della mascotte Lapo, il cane adottato in settimana dall'Arezzo Calcio Femminile dopo la partnership stipulata con l'associazione EMPA. Siamo qui con Agnese Zeghini, altrucce della prima rete, allora Agnese, finalmente un'Arezzo che torna alla vittoria. Sì, sì, c'era mancata da molto tempo e non vedevamo l'ora di ritrovarla, anche perché questa è una vittoria importante che ci può rilanciare per la vittoria del campionato. A chi dediti la rete? A tutta la società dell'Arezzo che ci sta dando tanto, ci sta dando una grande mano facendoci crescere. Siamo qui con il vicepresidente dell'ENPA, che ha trovato ultimamente un gemellaggio con l'Arezzo. Ci spieghi un po' come funziona questo nuovo rapporto tra le due società? Sì, praticamente abbiamo fatto una sinergia con l'Arezzo Calcio Femminile. Praticamente l'Apo, un nostro ospite del canile rifugio di Via Cadellanino, accompagnerà la squadra di Serie C in tutte le partite casalinghe. È stato accolto con entusiasmo da tutti quanti i componenti della squadra e della dirigenza e direi che oggi si è comportato egregiamente, perché come mascotte ha fatto il suo dovere, visto che il risultato della partita è stato estremamente positivo per la compagine di casa. Quindi una mascotte che accompagnerà, ricordiamo, l'Arezzo in tutti gli incontri casalinghe. Esattamente, esattamente. L'Apo sarà un tifoso costante e assolutamente silenzioso, ma di peso per quello che riguarda la squadra di calcio. Farà sentire la sua presenza sempre. Facciamo anche un invito alla popolazione che ci sta guardando a ricordare che il canile di Arezzo è sempre a disposizione anche per chi vuole essere volontario. Certamente, al canile di Arezzo ci sono circa 170 ospiti cani e un centinaio di gatti. Chiunque volesse dare una mano può venire a fare volontariato da noi. L'importante è essere maggiorenni, avere del tempo a disposizione e soprattutto tanto amore per gli animali. E vorrei anche invitare, eventualmente, altre compagini sportive che volessero in qualche modo seguire, diciamo, l'esempio dell'Arezzo calcio femminile, che da questo punto di vista è un'apripista, diciamo, in questa nuova esperienza anche per noi. Mister, finalmente l'Arezzo che torna la vittoria. Era l'ora, sì, in casa continuiamo con la nostra striscia positiva, siamo ancora imbattuti. Però, dai, io prevedo un buon febbraio. Domenica prossima ci avremo un incontro duro. Abbiamo però la possibilità di far meglio che all'andata, perché all'andata con loro pareggiamo qua in casa. era una squadra abbastanza battagliera, però io credo che, spero che ci sia un risultato pieno domenica prossima. Noi andiamo là per vincere. Ecco, andiamo all'analisi un po' dell'incontro. Un Arezzo che incassa da quel qualcosa in più rispetto a Trasvetta, come abbiamo visto oggi. Ma sicuramente questo magari può essere anche vero, però io credo che abbiamo passato un momento difficile, perché qualche infortunio di troppo ci ha condizionato. La nostra rosa è ristretta, però credo che già domenica scorsa a Ponte d'Era la squadra ha fatto con un ottimo avversario una bella riscossa e da lì siamo ripartiti con qualche elemento in più e il nostro obiettivo è Lucca il 28 febbraio. Dobbiamo arrivare lì nelle massime condizioni per battere di nuovo la capolista. Grazie.